Siamo qui con Laura Laposta del Sole 24 Ore al nostro primo forum, al primo forum di Nebattol sulla valorizzazione dell'acqua minerale. Oggi abbiamo parlato di acqua minerale e ricchezza per il territorio. Tu cosa ne pensi? Il format è molto interessante perché è la quintessenza della multimedialità e dell'interazione. Quindi mi sembra interessante che un'azienda parli con i suoi consumatori anche attraverso Twitter, attraverso Internet e cerchi il dialogo perché le domande non sono state filtrate. Quindi mi pare che abbiamo provato a parlare di questi temi che interessano tutti e dando delle risposte tecniche per quanto riguarda i tecnici e economiche da parte di noi giornalisti economici. Oggi abbiamo parlato di territorio, di valorizzazione del territorio, un'acqua come San Pellegrino che porta il Made in Italy e un paese come San Pellegrino, provincia di Bergamo, in tutto il mondo. Per te può essere un'opportunità di sviluppo per il territorio e anche per il sistema paese? Certo, noi siamo portati a pensare che l'acqua sia sempre un diritto fondamentale, cosa che è peraltro, ma l'acqua è anche un bene. L'acqua è un bene che viene poi imbottigliato, trasportato, utilizzato secondo la libera scelta dei suoi consumatori e questa è un'industria che dà lavoro a 40.000 persone in Italia. Quindi io inviterei anche a non demonizzare l'acqua in bottiglia. Io sono veramente un alfiere della sostenibilità nel mio piccolo. Cerco di vivere una vita ecosostenibile e di proporre sulle pagine del Sole 24 Ore anche questi temi. Abbiamo un rapporto sviluppo sostenibile da sette anni, però la sostenibilità stava intesa anche a livello di economia sostenibile. Questa è un'industria, ripeto, che è un vanto del Made in Italy che dà lavoro a 40.000 persone e in uno scenario industriale di forte deindustrializzazione in atto con 500.000 posti di lavoro persi nell'industria in 4 anni. Io credo che questa industria che ha mantenuto questi posti di lavoro sia, oltre che al fiera del Made in Italy e della libera scelta dei cittadini, anche un vanto dell'industria italiana. Questi 40.000 posti poi sono prevalentemente non solo a livello di catene distributive, ma anche sui territori. Queste acque sgorgano in vallate che prima erano considerate aree depresse e quindi adesso è un'occasione di sviluppo anche per le popolazioni locali lavorare in queste industrie. È un settore che non può essere delocalizzato.